Il regolamento della Camera e il Movimento 5 Stelle, c'è una fretta scellerata di chiudere, dicono, e manca una istruttoria seria. Noi vorremmo fare molto di più perché vorremmo inserire in Costituzione un vero e proprio obbligo da parte dei rappresentanti, dei cittadini, di poter discutere, anzi di dover discutere le leggi di iniziativa popolare e quindi vorremmo che questo obbligo venga inserito in Costituzione. Nel testo, che dovrà passare l'esame dell'Aula, anche novità sull'assegnazione dei progetti di legge alle commissioni e le modalità dei lavori.